Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà tutto dedicato alle scarpe sia dorate che metallizzate. Quindi diciamo che è un video auto style in cui vi faccio vedere alcuni spunti outfit per poter abbinare queste scarpe dorate, rose gold e diciamo metallizzate e anche glitterate che vanno tantissimo ultimamente. Quindi io vi faccio vedere più o meno quali sono i modelli di scarpa che andrò ad utilizzare all'interno di outfit e poi vi lascio direttamente al video con tutti gli outfit. Mi raccomando se questo video vi piace, mi raccomando mettete un pollice in su e ditemi anche qual è dei vari outfit del vostro preferito. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.